Ethereum Merge, il più grande aggiornamento previsto su Ethereum, è in arrivo tra oggi e domani. Come vedete qui, ci siamo. Ormai l'arrivo è previsto tra meno di un giorno. È una data storica per tutto il settore cripto, non solo per il mondo Ethereum, ma in cosa consiste il Merge e a cosa dobbiamo fare attenzione. Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti e bentornati sul canale di Webeconomia.it. Oggi non possiamo parlare che di Ethereum Merge, una delle date storiche per le criptovalute. Probabilmente si tratta dell'evento più atteso del 2022. Il Merge rappresenta il passaggio della mainnet di Ethereum al modello di consenso Proof of Stake. Si tratta di un aggiornamento molto delicato che ha richiesto anni e che rappresenta una grande evoluzione per Ethereum. La complessità dell'operazione ha fatto slittare nel corso del tempo un aggiornamento che era previsto da un po', ma che è stato sempre rimandato. Quando dico aggiornamento delicato, mi riferisco alla complessità e alla speranza che tutto procederà per il meglio. In caso di errori o blocchi della chain imprevisti potrebbero infatti esserci degli effetti che non possiamo prevedere. Il team di sviluppatori di Ethereum ha realizzato varie prove sulle testnet per essere sicuro che tutto proceda per il meglio. Se l'aggiornamento dovesse andare male, e speriamo di no, questo avrebbe ripercussioni sul prezzo di Ethereum e sull'intero mercato delle criptovalute. Ricordiamoci che Ethereum costituisce la seconda cripto per capitalizzazione, oltre ad essere il fulcro centrale della finanza decentralizzata. Cerchiamo di capire allora in cosa consiste il Merge di Ethereum e cosa comporta per gli utilizzatori della sua blockchain. Qui sul sito ufficiale di Ethereum potete trovare tutte le informazioni necessarie a capire il funzionamento del Merge. In descrizione vi lascio ovviamente tutti i riferimenti a questi link e ai veri siti per approfondire, ma partiamo dalle basi. Prima di vedere quali sono le caratteristiche del Merge e cosa dobbiamo aspettarci, vediamo brevemente gli argomenti di questo contenuto. In questo video vedremo dunque che cos'è l'Ethereum Merge e come funziona. Cercheremo di capire perché Ethereum sta aggiornando la sua rete. Il problema della scalabilità di Ethereum e le implicazioni del Merge e poi vedremo cosa cambia dopo il Merge. Per chi non lo sapesse la blockchain non è altro che un database o registro distribuito su più nodi in rete in cui vengono archiviate delle transazioni. A livello logico e semplificando la blockchain prevede come sappiamo vari livelli, un livello architetturale quindi di infrastruttura hardware, un livello di dati o data layer, un livello di rete o networking, un livello molto importante di consenso che è anche l'oggetto di questo video e un livello applicativo. Col termine Ethereum Merge si intende un aggiornamento della rete di Ethereum che porterà alla fusione della rete esistente che utilizziamo oggi, la mainnet, con la beacon chain, ovvero la nuova rete basata sul livello di consenso proof of stake. La proof of stake è un tipo di protocollo per la messa in sicurezza di una rete decentralizzata e per il conseguimento di un consenso distribuito. Si basa sul principio che ogni utente debba dimostrare di possedere un certo ammontare di criptovalute. Si differenzia quindi molto dai sistemi proof of work basati invece su algoritmi di hash che validano le transazioni attraverso il mining. Come vedete qui un nodo validatore deve avere un certo quantitativo di token per poter validare i blocchi e metterli in gioco ricevendo in cambio le fees di transazione. La proof of stake rispetto alla proof of work richiede molta meno energia e pertanto risulta essere molto più ecologico del proof of work. Attraverso il merge la rete di Ethereum diventerà più green e consentirà di porre le basi per ottenere maggiore scalabilità, sicurezza e sostenibilità. In questo modo Ethereum cerca di diventare carbon neutral e fare un primo aggiornamento fondamentale per la scalabilità futura. L'aggiornamento di Ethereum Merge è rappresentato in questa roadmap. Come vedete ci sarà un'unione dei due livelli di esecuzione e consenso che porteranno alla prima fase di Ethereum 2, un termine ormai deprecato che poi evolverà anche con lo sharding e i nuovi aggiornamenti previsti come vedete nella roadmap tra il 2022 e il 2023. Qual è la data esatta del merge? Non c'è una data precisa anche se sappiamo che arriverà sulla rete in corrispondenza del livello di difficolti che vedete qui. In base le statistiche della rete quindi potremo arrivare a questo aggiornamento tra oggi e domani, comunque a metà settembre. Vedete qui che si stima che tra circa 19 ore arriverà il merge con la produzione del primo blocco proof of stake. Tutto dipenderà dalla potenza, cioè dall'ash rate che utilizzeranno i miner di Ethereum. Ci sarà poi da capire dove si sposteranno questi miner? Magari dirotteranno la loro potenza di calcolo su Bitcoin o su Ethereum Classic? Staremo a vedere. Si tratta di un aggiornamento così importante che anche Google Search recentemente ha inserito un countdown, cioè un conto alla rovescia, direttamente nei risultati di ricerca quando si cerca la chiave Ethereum Merge. Ma perché Ethereum sta aggiornando la sua rete? Ethereum ha rappresentato sin dal suo lancio una delle più grandi evoluzioni per il mondo cripto. Il lancio della sua blockchain nel 2015 ha rappresentato una svolta per tutto il settore. Ad Ethereum infatti si deve il lancio degli smart contract, la possibilità di poter eseguire quindi software e realizzare applicazioni in modo decentralizzato, le cosiddette DApps. Dal momento del lancio Ethereum ha utilizzato il modello proof of work utilizzato anche da Bitcoin e altre chain per la validazione delle transazioni. Agli sviluppatori è apparso chiaro subito un problema. La blockchain, così come è stata concepita, non è scalabile, è sicura e decentralizzata, ma ha un problema fondamentale di velocità. Hanno così iniziato a lavorare per preparare una transizione verso un modello più sostenibile garantito dal proof of stake. Invece di un grande e unico aggiornamento che avrebbe potuto portare a conseguenze catastrofiche in caso di fallimento, si è preferito fare questo aggiornamento dividendolo in due. La Mainnet, che è la rete che conosciamo tutti, ha continuato a elaborare transazioni col modello proof of work. A dicembre 2020 invece è stata lanciata la Beacon Chain, una rete separata dalla Mainnet che supporta il modello basato su proof of stake. La Beacon Chain dunque non ha elaborato transazioni della rete principale e è stata testata in varie fasi fino ad arrivare ad oggi, il momento del merge. Dopo questa fase la Beacon Chain sarà il motore di consenso per la rete Ethereum e sarà utilizzata anche per le transazioni e la produzione dei blocchi. Nel momento in cui avverrà la fusione si fonderanno anche le cronologie delle transazioni di Ethereum e per l'utente non cambierà assolutamente nulla. Lo stesso token ETH sarà sempre lo stesso, dunque un processo che per l'utente finale sarà assolutamente trasparente. Uno dei problemi di scalabilità di Ethereum è rappresentato anche dal basso numero di transazioni che la rete può processare. Ethereum può processare in media circa 15 transazioni per secondo e ciò costituisce un grosso problema per chi vuole utilizzare la sua blockchain. Parliamo di una rete in cui le gas fees sono altissime e la rete è spesso congestionata. Tutti questi aspetti sono uno svantaggio per Ethereum che rende l'esperienza d'uso degli utenti molto negativa. E la DeFi, come sappiamo, è costruita al 90% da applicazioni e smart contracts che usano Ethereum. Ethereum è una blockchain che non è in grado di risolvere il trilemma, ovvero raggiungere la decentralizzazione assicurando sicurezza e scalabilità all'interno dell'infrastruttura. L'aspetto della scalabilità è stato spesso trascurato in quanto i primi due aspetti sono considerati più importanti in una rete. Ma per competere con altre reti, una blockchain deve essere in grado di supportare tante transazioni al secondo e Ethereum sta andando proprio in questa direzione. Generalmente possiamo avere due tipi di soluzioni, soluzioni di scaling layer 1 e soluzioni di scaling con layer 2. Se non l'avete fatto vi consiglio di guardare un video realizzato proprio la settimana scorsa sulle principali soluzioni di scaling per Ethereum. Perché parliamo di scalabilità? Cosa c'entra il merge in tutto questo? La rete di Ethereum basata su Proof of Work non può raggiungere gli obiettivi di scalabilità a causa del numero di transazioni limitato per ogni blocco e al fatto che la produzione avviene a un ritmo costante. Come sapete alcune blockchain come Bitcoin producono un blocco in media ogni 10 minuti in base alla difficoltà che viene regolata dal protocollo stesso. Tutto questo porta a un congestionamento della rete che causa contemporaneamente anche un aumento delle commissioni, oltre ai tempi di conferma. Per questo motivo si rende necessario il passaggio di Ethereum al Proof of Stake con il merge che è visto come un aggiornamento propedeutico ai successivi. Il Proof of Stake non renderà Ethereum più veloce o abbasserà le commissioni, ma è un primo step importante per andare in quella direzione. Ethereum merge dunque non risolverà i problemi di scalabilità, è bene chiarirlo visto che ho letto in giro tantissime informazioni false ed errate. Per lo scaling ci sono già le soluzioni di layer 2 che funzionano bene. Inizialmente l'aggiornamento che andava sotto il nome di Ethereum 2 prevedeva alcune fasi. Attualmente il termine ETH2 è stato deprecato in corrispondenza dell'arrivo del merge. Se in una prima fase infatti si faceva riferimento a ETH1 come livello di esecuzione e a ETH2 come livello di consenso, oggi si parla semplicemente di Ethereum. I problemi di Ethereum oggi sono essenzialmente dovuti alla rete congestionata, infatti Ethereum stesso deve migliorare la velocità per servire meglio una base di utenti più ampia. Lo spazio su disco, infatti all'aumentare della rete, crescono le dimensioni e lo spazio necessario per memorizzare dei dati. Molti nodi girano ad esempio su server Amazon, la cui percentuale cresce e sta creando anche dei dubbi nella comunità sull'effettiva decentralizzazione della rete. Il consumo di energia è un altro aspetto fondamentale. La proof of war consuma troppa energia. I criteri ESG, specialmente in Europa, impongono alle blockchain una transizione più ecologica. In questo senso il merge aiuterà Ethereum a consumare meno energia e a diventare più sostenibile. Il principale elemento del cambiamento e l'essenza stessa del merge è il livello di consenso. Ethereum quindi funzionerà con un modello di consenso proof of stake. Le transazioni saranno confermate cioè da nodi validatori che dovranno convalidare un blocco in base allo staking e al quantitativo di token che mettono in gioco. Per i nodi validatori ci saranno ovviamente incentivi e ricompense. Questo passaggio ha fatto storcere il naso a molti che ritengono meno sicuro questo meccanismo. Tuttavia questa trasformazione di Ethereum si rende necessaria per poter continuare nella sua evoluzione. Non dimentichiamo poi lo sharding. Non cambiano dunque gli aggiornamenti e la roadmap di Ethereum che prevede in futuro anche lo sharding. Lo sharding non è altro che un concetto già usato nell'informatica che consente di frammentare transazioni in piccoli pezzi o shards lavorando con il roll up layer 2 per gestire più transazioni al secondo e ridurre quindi la congestione della rete. Un aggiornamento che ci aspettiamo tutti nel 2023. Come cambia quindi la tokenomics di Ethereum col merge? Abbiamo detto che Ethereum utilizzava fino a qualche giorno fa un modello di consenso basato su proof of work. In questo contesto il protocollo prevede l'emissione di token come ricompense ai miner. Con il termine dell'attività di mining non ci sarà più la necessità di questa emissione di token che attualmente era di circa 13.000 al giorno in ricompense. Col passaggio alla proof of stake l'emissione di ETH scenderà drasticamente e si stima circa il 90% e questo potrebbe influire sull'inflazione dei token che potrebbe far aumentare il prezzo di ETH. In genere la tokenomics è influenzata come sapete dall'emissione dei token che dovrebbe di Windy ridursi in modo drastico in quanto non c'è più il mining, dallo staking di ETH cioè i token bloccati in staking sulla beacon chain, il burn di eventuali FIS o una parte di S. Questo potrebbe portare addirittura ETH a diventare deflattivo. A proposito di emissione di token possiamo vedere su questo sito come cresce la supply di Ethereum di anno in anno. Circa il 4,1% dei nuovi token vengono immessi nel sistema. Poi c'è una percentuale di ETH che vengono bruciati. Ma se andiamo a simulare il merge vediamo che con la fine del mining e l'introduzione della proof of stake abbiamo la supply che crescerebbe soltanto dello 0,1% annuo e quindi avremo una percentuale di burn che andrebbe a superare la percentuale dei nuovi token emessi. E come vediamo dalle statistiche la maggior parte dei token ETH vengono bruciati per NFT e DeFi e Layer 2 che stanno crescendo. Dunque è probabile che si vada verso un modello nuovo di ETH che potrebbe addirittura diventare deflattivo. Non stiamo dicendo che il prezzo di Ethereum aumenterà. Bisogna infatti considerare che gli ETH in staking verranno sbloccati in modo graduale e magari potrebbero essere venduti. Nessuno può saperlo a causa della volatilità del mercato. Vi ricordiamo che questi non sono consigli finanziari. Fate dunque le vostre ricerche e valutazioni personali prima di investire in qualunque asset. Cosa cambia quindi dopo il merge? L'arrivo del merge non renderà Ethereum scalabile ma rappresenta solo la prima fase di trasformazione di questa chain. In futuro con lo sharding e la definitiva maturazione del rollup assisteremo probabilmente al raggiungimento della scalabilità come prevedono tutti gli aggiornamenti. È bene però chiarire alcune cose riguardo il merge per sfatare alcune bufale che stanno circolando e fare chiarezza. 1. Attenzione alle truffe e agli scam. Per gli utenti non cambierà nulla. Le transazioni saranno elaborate dalla nuova chain dopo il merge ma la coin ETH rimarrà sempre la stessa. Dopo la fusione dunque gli utenti e gli holder di ETH non dovranno fare nulla a parte sperare che tutta proceda secondo i piani. Prima della fusione dunque chi possiede ETH sul proprio wallet o ha in staking Ethereum non deve fare nulla. I fondi saranno al sicuro. Non è richiesto dunque alcun aggiornamento degli utenti. Non è richiesto dunque alcun aggiornamento agli utenti mentre saranno richiesti update ai nodi della rete. È bene chiarire questi aspetti in quanto assisteremo sicuramente al proliferare di truffe. Evitate di rispondere a messaggi di utenti che chiedono di trasferire ETH o inviarli da qualche parte perché c'è un aggiornamento. La coin ETH rimarrà lo stesso e il simbolo sarà sempre ETH. Non ci sarà dunque nessuna nuova versione né un token ETH2 o simili. Se qualcuno dovesse propolvero fate attenzione perché sicuramente è una truffa. Il merge ridurrà le gas fees. Assolutamente falso. Questo aggiornamento rappresenta una modifica al meccanismo di consenso. La capacità della rete non verrà intaccata e dunque non ci sarà almeno nella prima fase una riduzione significativa delle gas fees. Terzo mito da sfatare. Le transazioni su ETH diventeranno più veloci dopo il merge. Non ci sarà purtroppo alcun miglioramento delle transazioni per secondo. La velocità è influenzata dai tempi di produzione di blocco e dalla finalizzazione. Questi rimarranno invariati o diminuiranno di poco. Per l'utente però l'impatto sarà minimo e sarà difficilmente notabile. Nella Proof of Stake si introduce un tempo di finalizzazione del blocco che comunque ha un impatto e rende paragonabile questo timing a quello del vecchio modello Proof of Work. Col nuovo modello POS dunque non ci saranno dei cambiamenti così significativi. Tutti gli ETH messi in staking saranno prelevabili. Anche questa informazione è falsa. Gli ETH messi in staking sulla Beacon Chain rimarranno bloccati anche dopo il merge senza la possibilità di essere prelevati. Con i futuri aggiornamenti sarà possibile prelevare i propri ETH in maniera graduale che saranno bloccati per un tempo variabile dai 6 ai 12 mesi in media. Con lo sharding spariranno tutti i rollups e i layer 2 su Ethereum. Come prima cosa ricordiamo che per lo sharding ci vorrà ancora tempo. Si parla di fine 2023. Ma lo stesso fondatore di Ethereum, Vitaly Buterin, ha definito la Chain come una blockchain rollup centric, cioè incentrata sui rollup. Quando arriverà lo sharding questo verrà utilizzato per altri scopi, come per la sicurezza e per una gestione ottimale dei dati in modo frammentato, mentre le transazioni continueranno probabilmente ad essere inviate sui layer 2, che non sono assolutamente destinati a scomparire, ma anzi a crescere ulteriormente. Quindi grande fiducia nei layer 2 per la scalabilità di Ethereum. L'APR dello staking sarà più alto dopo il merge. Le stime parlano di aumenti dell'EPR, cioè l'annual percentage rate. Le stime parlano di aumenti di EPR, cioè l'annual percentage rate, ovvero l'interesse annuale sullo staking di Ethereum dopo la fusione in crescita. Se avete visto il nostro video su EPR e Epy, che vi lascio qui sopra da qualche parte in descrizione, avrete capito che questo non dipende dall'emissione di un token, ma da altri fattori. Nel caso di Ethereum, parte dei token immessi al mercato andranno ai validatori, invece che ai miners. E questo potrebbe far aumentare leggermente e non triplicare, come sostenuto da molti, le percentuali sullo staking. Tutto dipenderà dall'utilizzo della rete. Più gas fees verranno pagate dagli utenti, più EPR riceveranno i validatori. Ultimo mito da sfatare, il merge causerà un down della rete. Anche questa è un'informazione falsa. L'aggiornamento merge è stato progettato per non avere alcun down della rete, neanche per pochi secondi. Si vuole infatti garantire l'utilizzo della rete agli utenti senza necessità di interruzioni. Anzi, ci auguriamo tutti che la fusione avvenga senza alcun problema. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, abbiamo visto che cos'è il merge per Ethereum e cosa dobbiamo aspettarci. Nei commenti vi lascio tutti i riferimenti e i links dei vari siti exchange per comprare criptovalute e gli altri approfondimenti. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale per supportarci, a mettere mi piace, attivare le notifiche per rimanere aggiornati e a lasciarci i vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto come sempre e ci vediamo al prossimo video. Buon merge! Grazie Grazie Grazie